Buonasera ragazzi, oggi parleremo dello scalare interessi e vedremo meglio come poter calcolare gli interessi che vengono maturati sul nostro conto corrente. Partiamo da questo estratto conto dove abbiamo già registrato alcune operazioni che sono avvenute durante l'anno. L'1 di gennaio riportiamo il saldo del conto corrente che era presente già sul conto al 31.12 dell'anno precedente. Il segno ovviamente è avere perché è un movimento in avere, cioè accreditato, denaro che è presente sul nostro conto e il saldo del nostro conto è appunto 13.875. Il 9 gennaio preleviamo in contanti 2.904 euro che andranno in dare. La valuta di questo prelevamento, cioè il giorno da cui cominciano a maturare gli interessi, sarà sempre il 9 gennaio perché abbiamo detto che prelevamenti e versamenti in contanti hanno la data di valuta coincidente solitamente alla data dell'operazione. Il nostro saldo, cioè l'importo totale rimasto sul conto, sarà determinato facendo la differenza fra 13.875 meno 2.904. Il saldo è quindi 10.971 ed è ancora un saldo con segno a avere, cioè sono soldi presenti sul conto. Il segno rimarrà a avere fino a che noi avremo dei soldi sul conto corrente. Diventerà un segno dare solo nel caso in cui il risultato, il saldo sia negativo, che vuol dire che abbiamo prelevato più denaro di quanto ce ne fosse disponibile. Quindi di fatto la banca ci ha prestato del denaro. Proseguiamo un po' più velocemente. Il 27 marzo, versiamo denaro in contante, abbiamo detto che il versamento in contante ha la stessa data valuta, quindi il 27 marzo, versa 1.300 euro. Aggiungiamo 1.300 ai 10.971 e otteniamo il nuovo saldo. 13 giugno, versiamo un assegno bancario. Gli assegni bancari tratti su altre banche hanno dei giorni di valuta, che possono essere diversi a seconda della banca in cui noi ci avviciniamo, a cui ci approcciamo, e solitamente sono 3-4 giorni lavorativi. In questo caso il testo ci diceva che il 13 giugno era un giovedì, quindi il 14 è un venerdì, era passato un giorno. Sabato e domenica non si contano, quindi sabato 15, domenica 16 non si contano. Avevamo lunedì 17 giugno e martedì 18 giugno. E così i tre giorni di valuta, i tre giorni banca ci comportano una valuta del 18 giugno. Cosa vuol dire? Io verso un assegno bancario di 15.006 euro sul mio conto corrente, ma anche se lo verso il 13 giugno, quella cifra comincia a maturarmi degli interessi a mio credito, che la banca mi pagherà, solo dal 18 giugno, cioè da 5 giorni successivi, come se la banca dovesse attendere che i soldi le arrivassero da un'altra banca, o essere sicura che i fondi siano presenti sul conto del traente, cioè di colui che ha emesso l'assegno. E così via il nostro saldo aumenta ed è sempre un saldo avere. Poi abbiamo ancora un prelevamento 3.500 in contante, quindi valute d'operazione coincidono, abbiamo una richiesta di emissione di assegno circolare, io vado alla banca e chiedo che mi prelevino del denaro perché io devo pagare qualcuno con un assegno circolare, quindi anche qui essendo una sorta di prelevamento in contanti, la valuta è la medesima. Poi abbiamo due versamenti e poi infine un prelevamento del 23 di dicembre. Cosa devo fare una volta che mi ho estratto conto? Ha presentato tutte le operazioni del periodo che stiamo considerando. Devo mettere in ordine le operazioni, in ordine di valuta. In questo caso è abbastanza semplice perché sono già in ordine di valuta. Allora la prima è un'operazione zero da cui parto perché in realtà è un'operazione dell'anno precedente, è un saldo che vi ho riporto. 31 dicembre, poi ho il 9 gennaio e la prima operazione, 27 marzo e la seconda, 18 giugno e la terza, 21 agosto, 30 agosto, 16 settembre, 7 novembre e 23 dicembre. Sono stato molto fortunato perché le operazioni erano già tutte in ordine. Cosa devo fare adesso? E qui arriviamo al fulcro di questa lezione. Devo preparare lo scalare interessi. Che cos'è lo scalare interessi? Allora dicevamo questa mattina con i miei ragazzi. Che cos'è l'estratto conto? È il documento nel quale visualizzo, vengono registrati, tutti i movimenti che ci sono stati sul mio conto corrente con la banca, sul mio libretto di risparmio. Mentre che cos'è lo scalare interessi? È un documento riepilogativo che permette alla banca di calcolare gli interessi che sono maturati a mio credito, a mio favore, per i soldi che ho lasciato presenti sul conto corrente, quindi come se li avessi in parte prestati alla banca, al netto di eventuali interessi passivi che dovessi pagare su eventuali prestiti che la banca ha fatto a me. Ma qui vedete non ci sono perché non siamo mai andati con segno negativo, mai andati con segno dare, quindi in questo caso non ci saranno. E poi di solito la banca alla fine del trimestre, del semestre, dell'anno ci calcola delle spese, delle commissioni per i servizi che ci eroga e anche dei bolli. Allora vediamo come preparare e calcolare lo scalare interessi. Innanzitutto prepareremo una tabella di questo tipo, dove metto come prima cosa la valuta, il saldo per valuta, i giorni, i numeri che abbiamo imparato con la scadenza comune e adeguata essere la moltiplicazione fra importo e giorni, quindi tra saldo per giorni. Nel caso in cui il saldo sia positivo, quindi con segno positivo, con segno avere, saranno numeri creditori, cioè numeri sui quali calcoleremo interessi che aspettano a noi, mentre se il saldo dovesse essere negativo, cioè un saldo dare, andremo a calcolare dei numeri debitori, cioè interessi che noi dobbiamo pagare alla banca. Allora cominciamo. La prima operazione è quella, la zero, che devo riportare, quindi scriverò valuta 31 dicembre, il saldo al 31 dicembre era 13.875, non avrò calcolo dei giorni per adesso, devo aspettare di proseguire con le altre righe. Quindi concentriamoci sulla colonna della valuta. La seconda riga che vado a compilare è la vera prima operazione, quella che ha valuta 9 gennaio con saldo 10.971. E proseguo in questo modo. Quindi avrò... Vado a mostrare i vari importi. Il 27 marzo l'operazione numero 2 con saldo 12.271. Il 18 giugno saldo 27.277 e così di seguito fino ad arrivare al 23 dicembre con saldo 26.183. A questo punto posso andare a calcolare i giorni. Per quanti giorni mi sono rimasti sul conto corrente disponibili 13.875? Dal 31 di dicembre fino al 9 gennaio in cui ho fatto un primo prelevamento sono rimasti 13.875. Quindi i giorni li calcolerò facendo 9... I giorni che ci sono dal 9 gennaio al 31 dicembre. Esattamente 9 giorni. Quanti giorni è rimasto il saldo 10.971? Dal 9 gennaio al 27 marzo. Quindi 77 giorni. E così via di seguito andrò a calcolare tutti i giorni. A questo punto, visto che i saldi sono tutti positivi, dicevamo, non avremo numeri debitori ma avremo solo numeri creditori e i numeri creditori si calcolano facendo l'importo del saldo per i giorni. 13.875 per 9 fa 124.875. 10.971 per 77 fa 844.767. E così calcolo tutti i miei numeri creditori. Una volta che ho terminato di calcolare i numeri creditori, posso finalmente calcolare gli interessi attivi che ho maturato su questo conto corrente. Allora calcolo degli interessi attivi. Il mio saldo è sempre positivo, quindi ho solo numeri creditori. Riprendo il totale dei numeri creditori, che è quello che nel calcolo finanziario corrisponde a capitale per giorni, capitale per giorni, capitale per giorni, e quindi lo moltiplicherò al tasso di interesse creditore, tasso di interesse sui numeri creditori, quindi interessi attivi. In questo esercizio era l'1,5%, quindi farò 7.349.581 per 1,5 diviso 36.500 e quello che mi viene è il calcolo degli interessi attivi. Ma interessi attivi di che tipo? Lordi. Lordi perché noi sappiamo che sugli interessi della banca maturiamo un ricavo, un guadagno che viene tassato. Tassato come? Con una ritenuta fiscale del 26%, che la banca funge da sostituto di imposta e versa questa imposta per noi. Quindi alla fine i nostri interessi attivi netti, al netto della ritenuta, saranno 223,51. Come abbiamo calcolato la ritenuta? 302,04 per 26 diviso 100, trovo la ritenuta 302,04 meno 78,53, trovo gli interessi attivi. Abbiamo degli interessi passivi? No, perché abbiamo detto che non abbiamo un saldo dare, quindi non abbiamo interessi passivi. Altrimenti avremmo dovuto fare il numero dei debitori per il tasso di interesse passivo, tasso debitore, che non abbiamo in questo caso, diviso 36.500 e avremmo avuto degli interessi passivi. Ma come vi dicevo, potremmo, anzi, sempre avere anche delle spese, queste spese possono essere o calcolate per ogni operazione che noi abbiamo compiuto, ad esempio, un euro per ogni operazione. Andiamo a vedere, abbiamo detto che la prima non si conta, le operazioni sono 8 e quindi ho 8 per 1, 8 euro di commissioni bancari. Oppure, oppure, o anche, potrei avere delle spese fisse e dei bolli. Supponiamo 32 euro tra spese fisse e bolli. Insomma, dobbiamo averli noi questi soldi o li deve avere la banca? In questo caso siamo molto fortunati, dobbiamo averli noi. Dobbiamo avere 223,51 euro di interessi attivi netti, meno 8 euro di commissioni e 32 di spese. Questo sarà il totale nostro credito. L'estratto conto che la banca ci invia alla fine dell'anno cita invece totale vostro credito, perché ovviamente è la banca che scrive a noi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a guardare il prossimo video dove faceremo un caso leggermente un po' più difficile. A presto! Grazie! Grazie a tutti!